Signori, il poeta metropolitano è un poeta che abbiamo trovato di strada, che si è presentato questa mattina, che fa le cose come facevano una volta, vi ricordate i Pasquini di una volta? E' Andrea Fulvini in arte Cassandrino. Cassandrino? No, 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 Cassandrino! Sono da Roma. Ma dai! Non ne avevo capito. Vai, Cassandrino! Eccolo, un partito forte, uno che apre tutte le porte, che scardina l'intrighi del palazzo, perché Mocciamber, ragazzo? Un politico giovane all'americana, uno che vuole un'Italia sana, con i principi veri e il coraggio di affrontare un momento tra li peggio. E' finita la mosceria del Sor Bersani e il buonismo di fa venire tutti qui, or solito argomento su Berlusconi. Il Sor Enzi ha cambiato minestra, d'ardio denaro si è fatto benedì e la sinistra ha sbortato a destra. E' una testa, sì! Valore, valore sante del nostro Casta Ueno! Buona domanda!